Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni non vuole vetti su Mario Draghi al Quirinale. Perché? Giorgia Meloni punta a Draghi al Quirinale per due motivi. Il motivo più importante è che con Draghi al Quirinale si mette in dubbio, in forse, la continuità del governo. Si potrebbe finire ad elezioni anticipate. E il secondo punto è che si toglierebbe un competitor importante, diciamo, dal mercato dei partiti. Perché se Draghi dovesse finire in qualche partito diventerebbe abbastanza ingombrante. Potrebbe diventare poi lui il presidente del Consiglio e portare quel partito dove va a una salita nei sondaggi. Quindi i due motivi per quali Giorgia Meloni ha chiesto nessun veto su Mario Draghi. Intanto la nota ha apprezzato il senso di responsabilità di Berlusconi. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha apprezzato assai meno invece le indiscrezioni uscite nel corso del vertice. Dice che nell'incontro non sono state formulate da alcuno specifiche proposte di candidatura, né tantomeno sono stati posti vetti di alcun genere. Semplicemente Fratelli d'Italia ha insistito affinché fosse chiaro che non auspica in alcun modo che la legislatura prosegua. Come invece possono eventualmente ritenere le forze politiche della maggioranza. Se Berlusconi spera che Mario Draghi resti premier, Meloni precisa che la questione di Draghi al Quirinale, sulla quale non abbiamo espresso alcun giudizio, non è stata posta e sarebbe semmai problema che possono avere le forze che partecipano al suo governo. Un riferimento a un momento teso tra Antonio e Tajani. Ditelo che volete Draghi e Ignazio alla russa. Noi non mettiamo alcun veto. In realtà Meloni avrebbe un doppio obiettivo per non sbarrare la strada all'attuale premier. Primo un avvicendamento a Palazzo Chigi è tutto da costruire e non è detto che i partiti ci riescano. Infatti, Draghi va al Colle e poi non si riesce a trovare un accordo per un altro presidente del Consiglio. E così rimane aperto lo spiraglio per le elezioni anticipate. Ma si guarda anche al futuro, come vi dicevo. Draghi al Colle toglierebbe dalla corsa un competitor pericolosissimo, qualora nel 2023 dovesse accettare la candidatura per schieramenti esistenti o futuri. Insomma, è abbastanza complicato. Matteo Salvini sente per telefono i segretari di tutti gli altri partiti per confermare quanto emerso dalla riunione. E così, il pallino adesso lo tiene in mano il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che lavora a una rosa di nomi tutti di alto profilo, ma che la sinistra non accetterà mai solo perché li propone il centrodestra e soprattutto Salvini. Se forse gli avesse proposti questi nomi Giorgia Meloni, non dico che sarebbe andata diversamente, ma forse qualche probabilità in più di essere accettati dal centrosinistra se questi nomi sono di Meloni. Invece con Salvini sicuramente la sinistra dirà sempre un rotondo e secco. No, a prescindere, a priori. Ma si parla della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Potrebbe godere di consensi da parte del Movimento 5 Stelle. Quindi la nota di Giuseppe Conte potrebbe essere letta come un incoraggiamento. Cosa dice Giuseppe Conte? Facciamo un passo avanti e cominciamo un serio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di alto profilo, autorevole, ampiamente condivisa. Beh, insomma, sì, diciamo che apprezzare la nota di Conte. Insomma, sono parole fatte, parole così. Ma Salvini scrive Giornata importante per il centrodestra e per l'Italia dopo la scelta generosa di Berlusconi. Ora vediamo se a sinistra continueranno a dire no a tutti e tutte. Altri nomi, oltre Maria Elisabetta Alberti Casellati, altri nomi sono quelli di Marcello Pera. Pera, 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 Pera. Marcello Pera, Letizia Moratti. Letizia Moratti? Ma dai, ma veramente. Ma non si può neanche pronunciare il nome. Poi si aggiungono Giulio Tremonti che ovviamente la sinistra non lo voterà mai. E poi quella dell'ex pubblico ministero, dell'ex giudice Carlo Nordio. Carlo Nordio sarebbe eccezionale, ma se voi guardate queste persone sono tutte persone politicamente di centrodestra. Tutte. Nessuna esclusa. Sia la Casellati che Pera, Muratti, Carlo Nordio. Anche se Carlo Nordio non è un politico, ma comunque è un ex magistrato, forse la candidatura meno politicamente schierata. Anche se si sa perfettamente che un magistrato di area centrodestra, un ex magistrato di area centrodestra, però non è un politico, non fa parte di nessun partito, pertanto rimane più neutrale sulla carta, anche se non lo è, ovviamente. e poi c'è anche il nome che continua a circolare dell'ex presidente della Camera, Pierre Ferdinando Casini. Insomma, questi nomi sono interessanti, io preferisco prima di tutto Carlo Nordio, senza se e senza ma, avendo fatto parecchi video su lui, rimane per me in testa la lista, e poi Tremonti. Per me c'è Nordio, Tremonti, e poi l'ha casellati, poi Casini, e secondo me Letizia Moratti non è neanche da prendere in considerazione. Bah, dice perché? Non lo so, non mi piace, non lo so, non c'è un motivo particolare, ma solo il nome, solo vederla, non mi piace, pertanto è una questione di pelle, è una questione epidermica, è una questione di pelle. Bene, insomma, da questo momento nasce una federazione di centro, anche con Giovanni Toti, che sarà decisiva anche per l'elezione del capo dello Stato. Vedremo che cosa succederà, perché domani c'è l'elezione del presidente della Repubblica. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, ricordatevi che siamo anche nell'altro canale, Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te, e poi siamo anche in Facebook, dove questi video di Teleitalia, Teleitalia Seconda Rete, vengono condivisi dopo qualche ora. nella pagina Teleitalia. Arrivederci a tutti e grazie.